Giovedì 16 novembre ci troviamo a Roma per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, tema della giornata il contract. Circa 250 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante le aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Noi ci occupiamo principalmente di pietre naturali e ultimamente abbiamo esteso il nostro raggio d'azione un po' a tutte le superfici creando il marchio Rigo Superfici e quindi un marchio che si occupa di tutto ciò che non è pietra naturale. L'azienda è un'azienda storica, è nata a Milano nel 1946 e quindi è un'azienda conosciuta sia a livello nazionale che a livello internazionale, opera un po' in tutte le parti del mondo. In realtà il messaggio che vogliamo dare a Roma è un messaggio abbastanza nuovo per noi. Lo slogan è il contract delle superfici perché abbiamo visto che ultimamente sia i progettisti che i general contractor, i committenti stessi in alcuni casi, hanno la necessità di trovare un'azienda pronta a rispondere a quelle che sono le esigenze nel mondo delle superfici. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre il coordinamento è stato raggiunto nell'ambito progettuale da tante realtà che sono nate negli ultimi anni e che si propongono appunto come coordinatori della progettazione, mancano le realtà che si propongono come realtà di coordinamento operativo del cantiere, soprattutto nell'ambito delle superfici. Quindi io non mi riferisco solo ai marmi, mi riferisco in generale. Noi ci proponiamo con questa nuova realtà, con questo nuovo messaggio, di andare ad occupare questo spazio che attualmente secondo noi è carente e c'è una necessità veramente di colmare questo vuoto con un'azienda che sia in grado di dare questo coordinamento. I tecnici, i venditori, gli installatori che noi abbiamo all'interno dell'azienda sono a disposizione del committente, del general contractor o dell'architetto per coordinare i lavori con loro. Grazie a tutti.